Vendita Exilva. Termini scaduti, il ministro del Made in Italy e delle imprese Adolfo Urso si lascia andare a un ottimistico e già un successo, perché sono passati pochi mesi, spiega, da quando abbiamo ripreso il controllo dell'azienda con i commissari. La novità è che oltre alla quindicina di pretendenti per l'Exilva, oggi acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, potrebbero arrivare anche altri pretendenti prima delle offerte vincolanti previste per fine novembre, perché è possibile presentare un'offerta saltando la fase della manifestazione di interesse che si è conclusa il 20 settembre. Gruppi internazionali, gruppi italiani, cordate miste che mettano assieme diversi interlocutori che andranno a gestire anche lo stabilimento più appetibile, ma allo stesso tempo più complicato, quello di Taranto. Il governo, si spera, vaglierà con molta attenzione le offerte vincolanti, soprattutto nell'ottica di portare avanti il tema della decarbonizzazione che proprio a Taranto dovrà diventare al più presto pratica effettiva. Sullo sfondo l'interesse di fare cassa, siamo sull'ordine del miliardo e mezzo di euro, ma anche quello di mantenere i livelli occupazionali che, secondo il sindacato, verrebbero messi in forza dalla cosiddetta vendita a spezzatino, che si sta conclamando anche con le ultime dichiarazioni di Marcegaglia e Arvedi. In ultimo il rapporto con Taranto, ancora troppo flebile, poco presente, e su questo ci vorrebbe e ci vorrà l'impegno di tutti. La richiesta del sindaco di Taranto va sostenuta cioè con l'impegno di tutte le parti politiche, con i probabili acquirenti fin dall'inizio, una interlocuzione che tenga presenti i sacrosanti diritti dei tarantini, cittadini, lavoratori e imprese. Molti degli errori del passato, infatti, con le conseguenze che viviamo ancora oggi, sono dovuti al ruolo subordinato, spesso succube che Taranto ha subito nei confronti dell'ex Silva senza avere nulla da dire e sappiamo come è andata a finire, ambiente svenduto compreso.